Sì, è stata una piccola soddisfazione per i studenti che hanno chiesto di essere sentati già in scuola, perché in sei anni, già da tre settimane, si è passato alla sceva di us, del liceo scientifico, per sentare giù, non nella cattedra, ma anche nelle banche, dei studenti. Nella seconda edizione della scuola estiva, in corso di aggiornamento, ho avuto gli insegnanti, indrezzata alla scuola Aladina de Fas, con la collaborazione dell'OLFET, l'Office Linguistico, il Comune Generale, l'Università di Udin, Busan e Trent e la provincia autonoma di Trent. Gli esperti denunciano, dal posto, tagliegni e foresi, per spostare agli insegnanti, tra l'altro, mochi, insimbri e laddini, negli strumenti didattici. Noi abbiamo, però, un studento dell'Università, che ha voluto integrare il suo corso di studi con discipline pectociade dalle facoltà, che è didattica di lingua locali e regionale, il plurilinguismo e la mitologia e letteratura delle popolazioni di Mendranza. Teoria e pratica dell'insegnamento descrive gli esempi di strumenti didattici spostati dal professor Andreu Bosch Irodoreda, docento del catalan all'Università di Barcellona. Materiai indrezzi per insegnare il catalan di Alghero della Sarbignia. Bene, io sono venuto per partecipare nel programma di didattica di lingue locali, specificamente per parlare della realtà dell'insegnamento del catalano di Alghero in Sardegna. Sapete che la legge regionale del 97 e quella nazionale del 99, tutti e due prevedono il riconoscimento del catalano di Alghero come minoranza linguistica da valutare, da proteggere. e sono venuto in questa scuola stiva di fascia appunto per spiegare 10-15 anni di esperienze didattiche e anche per l'introduzione del catalano nelle scuole algeresi di ogni grado, dalla scuola dell'infanzia, la primaria e quella secondaria di primo grado. Conteci magari disvalivi, ma che per dare il suo contributo, inizia per la didattica di lingue locali di miglioranza della regione. Il corso di aggiornamento serve sicuro per dare la possibilità ai docenti di trovare, diciamo, nelle proposte formative da poter fare delle disvalive classi e inizia per migliorare la competenza didattica ed è sicuro con essere però corse le moglie ai pianeti di studi e così in alto.